Siate lieti, siate lieti sempre. Paolo ci tiene a sottolineare che la letizia, l'atteggiamento interiore di leggere la vita e la realtà con uno sguardo particolare, quello che è proprio della trasparenza del cuore e di chi attende il Signore. Il Signore sta per venire, siate lieti. D'altronde tutto il lezionario, le letture di questa domenica sembrano orientare la nostra riflessione, il nostro sguardo, il nostro atteggiamento. Nel fatto che il Signore sta venendo nel prossimo Natale, quasi a spronarci, a dirci provate a recuperare la dimensione della letizia, la dimensione strutturale della gioia interiore, benché la complicazione della vita. È una domanda che dovremmo farci spesso, no? Come credenti. D'altronde è ancora più impegnativo recuperare la dimensione, lo spazio della letizia in tempo problematico. Le immagini che ieri sono arrivate dagli Stati Uniti, vedere decine di bambini trucidati e anche la stessa commozione che nelle parole, al di là poi della struttura istituzionale che veniva dal Presidente Obama, che dice noi stasera riabbracceremo i nostri figli, ognuno riabbraccerà i propri. Ci sono dei genitori che non li riabbracceranno più. E in quelle affermazioni io vedevo sia i bambini che sono stati trucidati lì, ma tutti i bambini che quotidianamente vengono lasciati al proprio destino. O perché offesi da mano violenta e dal sopruso di volgarità e delinquenza. O perché la fame, la malattia, la povertà li portano lontano da quella che è la loro dimensione. E quindi è difficile dire come faccio a restare in letizia di fronte alla tragedia del mondo. Oppure guardando quella che è la realtà cruda del nostro tempo, dove esiste questa quotidiana mancanza di prospettive, soprattutto per chi le prospettive le ha perse per la mancanza di lavoro, per la quantità e la qualità della vita che si è abbassata, per il futuro che manca, il senso e l'orientamento della propria esistenza. Mantenere letizia. Paolo dice bene, siate sempre lieti, ma come si fa? Sembra una provocazione assurda. Dice sta per venire Natale e il Signore viene. E qui è la sfida. ed è qui che si gioca la nostra fede, che da un lato deve fare i conti con la verità, perché l'uomo di fede non è lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia, è colui che ha chiaro ed evidente la storia e il corso degli avvenimenti, li legge, li interpreta, li vive, li analizza, li soffre, ma dall'altro li coglie con una prospettiva diversa. La stessa di cui parlavamo domenica scorsa, se vi ricordate, che era una conversione, lo stesso Giovanni ci chiedeva di avere, di raddrizzare la via, che in fondo va di pari passo con una visione, una visione diversa della vita, con una visione del mondo, con una sua capacità di comprensione. Femmo restando la partecipazione attiva al dolore e alla sofferenza del mondo dall'altro, con la straordinaria volontà di vedere oltre e di trascinare il presente verso quest'oltre con il dinamismo della fede, dinamismo credente, sapere che il Signore dalla nostra parte non ci abbandonerà mai. Tante le domande che mi sono arrivate anche in rete rispetto all'avvenimento, se il Signore è buono perché tutto questo? So anche che è difficile con una battuta rispondere, ma l'uomo di fede deve porsi la domanda rispetto al dolore del mondo e alle sue tenaglie più profonde, deve avere il coraggio di fronte alle difficoltà e proprio dinanzi alle difficoltà dire Dio non mi abbandona. Ma deve fare anche un altro passaggio, che è ancora più impegnativo a mio modo di vedere, di rispondere dove sta Dio quando l'uomo soffre. Perché chi crede che Dio c'è, si impegna a renderlo presente con la propria vita, proprio quando Dio sembra non esserci. In altri termini ad azionare quei meccanismi per il credente che siano capaci nel dare ragione della speranza che è in lui di motivare in chi è oppresso, abbandonato e stanco, una risposta positiva, una risposta possibile, guardando quell'oltre. Giovanni Battista dà una risposta a coloro che vanno da lui e gli chiedono. Tu dici che sta per venire il Signore. Bene, noi lo aspettiamo e lo vogliamo aspettare. Cosa dobbiamo fare? Che significa da un lato il desiderio dell'incontro con Cristo e dall'altro mettere in moto in se stessi una risposta che non sia soltanto ideologica, che non è soltanto sentimentale, è proprio per fare in modo che quella strada si raddrizzi, diventi una strada appienata, possibile da attraversare non solo da solo. Ci sono tre categorie di persone, avete sentito che vanno da Giovanni, che descrivono in fondo un mondo di ieri ma il mondo di sempre. Tre categorie che possono essere, non dico mi comprensive, ma che danno una certa sufficiente possibilità di diversa impostazione e di uguale dignità all'attesa. C'è la gente, ci sono i pubblicani che si fanno battezzare e ci sono i soldati. Tutti e tre vanno da Giovanni e gli dicono sta per arrivare il Signore. Tu dici che dobbiamo convertire il senso della nostra vita, che dobbiamo trovare luce in fondo al tunnel. Cosa dobbiamo fare per attrezzarci all'incontro? Alla maggioranza, cioè agli uomini, alle donne, alla massa, al popolo, dà un'indicazione precisa. Siate umani, dovete vivere di compassione. Non potete vivere al mondo senza sentire la sofferenza degli altri. Chi ha due tuniche ne spartisca una con chi non ne ha. Chi ha da mangiare faccia ugualmente. Poche parole per dire che per attendere il Signore bisogna essere uomini di solidarietà e di compassione. E guardate che dietro il vestito e dietro il cibo esiste certamente in tempo di precarietà proprio il cibo e il vestito, ma dice tutto ciò che indica nell'altro la mancanza e la capacità di saper spartire quello che hai con chi non ce l'ha. La compassione, il grande tema che affascina tutte le religioni e tutti gli uomini di buona volontà, che mette insieme questa parola, sapere entrare, vivere e partecipare alla sofferenza degli altri come valore umano. Non per niente l'induismo, il buddismo, l'isla, il cristianesimo e l'ebraismo hanno nella compassione il valore fondamentale del proprio percorso. Compassione, avere la forza e la dignità dell'altro come proprio strumento di vita, come forza della propria esistenza. Aspetti Natale? Vuoi fare Natale? Aspetti un incontro con il Signore? Cosa debbo fare? Chi ha due tunni? Che ne dia uno che non ce l'ha. Non pensare che poi la seconda ti possa servire per forza. Ti serve di più se la condividi. Così con chi ha il cibo? Secondo, i pubblicani. I pubblicani sono quelli che vanno a cercare le tasse per il governo. Ovviamente sarebbe gioco forza oggi dire cosa dobbiamo fare. Se ne parla tanto di questa pressione fiscale. Non mi voglio addentrare in questo in quanto tale, perché Giovanni Battista sta indicando a coloro che hanno responsabilità di prendere e di consegnare in tutte le attività. Quindi i pubblicani sono quelli che prendono le tasse e le devono consegnare. Di non trattenere nulla dunque il passaggio. Non so se ho reso l'idea. Quindi Giovanni Battista sta dicendo che chi deve prendere e consegnare non trattenga nulla lungo il passaggio. Tu vuoi aspettare il Signore. Usiamo il termine che forse è molto più chiaro. provare. Prova a non essere corrotto. Non lasciarti corrompere e non pensare che quello che stai prendendo nel silenzio, nel segreto, non si venga a sapere. Tu vuoi aspettare il Signore. Quindi non è una questione semplicemente di, come dire, non è una semplicemente di un segmento. È un atteggiamento del cuore. Vivere con Letizia significa anche in qualche maniera seguire un percorso di lealtà, di onestà, di dignità del proprio essere, senza consumarsi nella voglia assoluta di possedere, di avere a tutti i costi. E soprattutto senza sfruttare la propria situazione, il proprio stato di privilegio, quello che avviene per la terza categoria. I soldati. Vedete, non sono stati scelti a caso i rappresentanti della richiesta, pure i soldati. Vanno da Giovanni Battista e gli dicono che cosa dobbiamo fare. E lui dice, rappresentano le istituzioni, no? Non approfittate del vostro stato per angariare e accontentatevi delle vostre paghe, la dice tutta, alle istituzioni. Accontentatevi delle vostre palle alle istituzioni. Cioè è proprio quello che sta avvenendo oggi. Cioè è proprio la descrizione di un mondo compassionevole, un mondo senza corruzione e un mondo che non approfitta del proprio stato per sfruttare la migliore possibilità per se stessi contro gli altri. Allora Natale viene, dice Giovanni Battista, ma probabilmente non viene per te se tu non dai una risposta adeguata. E poi non ti puoi lamentare se non vivi felice, non sei sereno, non sei in armonia con te stesso, non trovi pace interiore. Non ti puoi lamentare. E non puoi pensare che la responsabilità sia del mondo generico per cui le cose vanno male. il mondo. Questa parola astratta per dire tutto e per non dire niente. Il mondo. Il mondo va così. Il mondo. Il mondo sono io. Io. Con le mie scelte. Con le risposte che do. Con la mia capacità di dire i miei noi e i miei sì. Che non necessariamente devono seguire quelli della massa e essere giustificati perché così fan tutti. Ma non è vero. Io in fondo al tunnel della mia vita voglio ritrovare la luce. La voglio ritrovare. E questo Natale per me deve essere un Natale diverso. È un tempo di crisi? È un tempo di difficoltà? è un tempo in cui sembra vincere ogni giorno la depressione sulla letizia? Ebbè c'è da stare la ragione. E la ragione non può essere il mondo. Non può essere il mondo. Il tuo mondo. Il tuo mondo. Fermo restante che i guai della vita ci saranno sempre. In ogni occasione. E chi li vive le subisce in prima persona. Sa che cosa significa vivere i guai. Ma hai bisogno in qualche modo di vedere oltre. E il tuo mondo, se è caricato di fede, riesce a gridare letizia anche in tempo di lutto. E lo riescerà a fare di più se è stato compassionevole nella vita. Giusto e onesto nella dignità di essere uomo, capace di vivere la propria vocazione, il proprio carisma e ministero a servizio degli altri e non solo per se stessi. Nel momento in cui ho questa esperienza, questo carico, certo io posso trovare delle difficoltà, pamore di, ma ho anche un guadagno. E fondamentalmente nel momento stesso in cui andrò a fare i conti con la mia coscienza, troverò la difficoltà di dovermi dire quanti fallimenti ho trovato, ma anche quanta gioia, quanta consapevolezza dell'altro, quanta luce che mi ha permesso di vedere anche nella notte più profonda. Natale sta per arrivare, figliolini miei. È un Natale diverso questo. E non è Natale diverso perché arriva dopo il 21-12-2012. È un Natale diverso perché questo Natale è il tuo Natale. È la tua esperienza con colui che viene nella tua vita, la tua vita, e ti dice io sto bussando e voglio entrare. Mi fai spazio e tu gli dirai che cosa devo fare. E lui ti dice se hai due tuniche, danne una a chi non ne ha. Se hai un posto di responsabilità, non sfruttarlo soltanto per te stesso, ma vivi servizio all'umanità. Se nel tuo cuore c'è la tentazione di essere fuori della linea della correttezza rispetto alle cose e ai valori che hai ricevuto, desisti. Non fare come fanno tutti, segui la voce della tua coscienza. E allora io entrerò e sarà finalmente gioia. Credo in un solo Dio.